Bisogna apprezzare le cose degli altri. Io apprezzo tantissimo l'intervento che hanno fatto queste persone, con grande generosità, lo apprezzo sinceramente tantissimo e li invito tutti, non soltanto organizzati, ma anche in maniera singola. Cioè come viene, organizziamoci, troviamoci, facciamo e vediamo quali sono i progetti concreti, reali, da subito per capire come gestire questa cosa, per cominciare a cavare epantegane, che sei tanto per non fare discorsi, perché così è la situazione in questo momento. Dopo 30 anni, oggi che c'è l'impeditore privato, tutti quanti parlano di Poveglia, stranamente. Diversamente magari si spegnevano le luci dei riflettori delle telecamere e poi si resta. Noi dobbiamo predisporci a una città metropolitana, dove la terraferma deve essere protagonista. Perché lo è? Perché dentro quell'associazione ci sono tantissimi ragazzi, tanti sono anche i nostri dipendenti, che hanno messo i soldi perché questa associazione ce la faccia. E noi garantiamo che questa associazione ce la farà.